Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora siamo arrivati alla decima lezione di questa masterclass di Excel. Quest'oggi andremo a vedere che cosa sono le tabelle all'interno di Excel. Praticamente quando noi andiamo ad inserire dei testi e delle colonne, in realtà non abbiamo creato una tabella, ma abbiamo creato solamente un set di dati. Se noi andiamo a trasformare i nostri set di dati in tabelle, diventano degli oggetti al quale sono associate poi delle proprietà e delle funzionalità particolari che ci aiuteranno molto nelle nostre attività lavorative. Allora come sempre utilizziamo il file di benvenuto di Excel, quindi menu file, nuovo e qui troviamo il benvenuto di Excel. Allora io l'ho già aperto e quando l'abbiamo aperto ci spostiamo nel tab delle tabelle. Come sempre qui Microsoft spiega un po' come funziona, ma noi adesso andremo un pochino più a fondo, vedremo quello che spiega lui, ma andremo anche un po' più nel dettaglio. Allora vediamo che qui appunto abbiamo il set di dati che Microsoft ha costruito per noi, quindi qui hanno messo proprio i nomi delle colonne e qui hanno messo dei dettagli qua, dei numeri. Ovviamente noi qui potremmo andare a formattarlo, ad esempio potremmo andare a mettere i campi così, poi magari venire qua, fare tasto destro, fare formato celle e dirgli guarda questo è un numero e mettimelo magari, togli il decimale e mettimi il separatore delle migliaia, no? Allora faccio ctrl z, ctrl z e torniamo indietro, però questo comunque è sempre un set di dati, se io qui vado e faccio una somma, somma, quando scrivo la somma devo selezionare questa cosa qua, come vedevamo nelle precedenti lezioni, premio l'invio e poi qui dovrei andare a trascinare, qua scrivere totale, ok? Con le tabelle è tutto molto più semplice, allora come si fa a trasformare questo set di dati in una tabella? Allora, basta fare un clic su un punto qualsiasi della tabella, Excel intelligente capisce il perimetro dei nostri dati, quindi fin dove lui troverà il confine, ok? Con dei dati adiacenti al punto in cui noi abbiamo cliccato, quindi qui becca, qui becca, qui trova il confine, quindi troverà proprio il perimetro di questa tabella. Se noi andiamo qua e andiamo nel menu, inserisci, ok? Qui troviamo questo tastino qua, tabella, ok? Oppure possiamo premere anche il tasto rapido, ctrl T, se premiamo su tabella, ecco che lui identifica il perimetro come vi dicevo prima e vi dice, guarda, vuoi creare una tabella, specificare la posizione dei dati per la tabella, quindi lui rileva l'intervallo in automatico, però magari lo rileva in modo sbagliato e quindi qua potete andare a correggere. Poi qui dice tabella con intestazioni, ok? Se io tolgo questo flag, praticamente i nomi dei campi andrebbero sotto insieme ai valori, allora io la faccio tabella con intestazioni, premo ok, ecco che ho creato una tabellina, vedete lui l'ha formatata, ci ha messo anche dei colori e nel momento in cui ho creato questa tabellina è comparso questo menu nuovo, vedete struttura e tabella che è un menu contestuale, quindi che appare quando noi clicchiamo, difatti se io clicco fuori da questa tabella il menu contestuale è scomparso, appunto perché è un menu dedicato per questo tipo di oggetto, difatti qui noi adesso abbiamo creato una tabellina, no? Prima per formattarmi la colonna ad esempio ho dovuto selezionare le celle, ok? Perché se facevo così e facevo tasto destro, formato celle e mettevo il numero, avrei applicato la formatazione solo su questo set qua, difatti vedete che qui non l'ha fatto, però in realtà con la tabellina è più semplice perché voglio applicare la formatazione a questa colonna, mi sposto sopra la colonna, vedete la freccetta ha cambiato il suo appuntamento, cioè questa è la freccetta normale, se vedo qua è nera, quando clicco, ok? Faccio un clic, seleziono tutta la colonna, può essere che ci siano anche un milione di record, ok? Lui seleziona tutta la colonna, quindi nel momento in cui noi facciamo tasto destro e poi facciamo formato celle e qui diamo la formatazione di questa colonna, lui formatterà sempre la colonna in questo modo, difatti se io mi sposto sotto, vedete qui c'è anche un simbolino, vedete questo simbolino qua, perché mi permette di allungare la tabella, quindi io ho la mia tabella che è definita in questo perimetro, sì io vengo qua giù e trascino ad esempio questo verso destra, ne faccio tre ad esempio, lui mi crea delle nuove colonne vuote e mi titola già i titoli e mi dà il nome di campi in automatico perché riconosce che questi sono nomi dei mesi e quindi qui lui dice, buon dopo dicembre c'è gennaio e già me le intitola, però nulla vieta che io qua vado a scriverci marzo qui, aprile qui e giugno qui ad esempio, ok? Questa non cambia a nulla. Se la stringo, ok? L'ho stretta e questi dati che erano posti sulla destra diventano dati esterni al mio oggetto. Come quello che stavo dicendo è che se vado in fondo, ok? Se io vado qui e metto anche un valore 50, ok? E premo invio, lui avendo scritto un valore vicino alla tabella estende il perimetro della mia tabella in automatico, mi compila anche la colonna e ci scrive il nome se riesce a capire quello che volete scrivere. Come lo fa a destra? Lo fa anche nelle righe, quindi se io vado nell'ultima riga e qua ci scrivo 50.000, 1, 2, 3 e premo invio, ecco che lui mi ha formatato in automatico anche il 50.000. Se vado qui, ok? Scrivo 60.000, 1, 2, 3, vedete che è formatato così. Appunto perché la colonna non ha nessun tipo di formatazione. Se io avessi fatto una formatazione di questo tipo, tornando all'esempio di prima, solo sulle celle, ok? Quando io vado qua e scrivo 50.000, ok? Non fa nessun tipo di formatazione, ma se lo facciamo sulla colonna cliccando qui così, ok? Lui seleziona sempre tutto l'intervallo e se io aggiungo record, manterrà sempre la formatazione che voi avete applicato alla colonna, senza che voi ogni volta dobbiate andare lì e applicare la formatazione al testo. Bene, allora questo era un esempio, allora cancelliamo questo. Perché cosa ci dà in più la tabellina? La tabellina ci dà anche una formatazione rapida. Allora se noi facciamo un clic qualsiasi, su un punto qualsiasi del nostro set di dati, andiamo sul menu contestuale struttura tabella in alto a destra. Qui troviamo, adesso voi lo vedrete meglio perché adesso io ho un po' di zoom, ma comunque vedrete sicuramente anche queste iconcine qua poste sulla destra. Se io vengo qua, vedete, posso andare a formattare la mia tabella con dei colori preimpostati, vedete, è molto carino. Quindi facendo un clic noi scegliamo come impostare il colore della formattazione della mia tabella. Qui ho anche il pulsante pulsante filtro, vedete, posso togliere i filtri della tabellina se non voglio averla, però posso fare in modo che rimanga una tabella. Cosa molto molto importante, qua su in alto a destra, sempre dal menu struttura tabella, possiamo dare un nome alla nostra tabella, perché quando si definisce un oggetto all'interno di Excel è sempre importante avere l'abitudine di dargli un nome parlante. Ad esempio qui stiamo parlando di reparto categoria, ipotizziamo che sia negozio, tabella negozio. Ok, gli diamo un nome perché poi andando avanti nel corso impareremo a fare diverse cose e se non diamo mai il nome alle cose magari ci ritroviamo un foglio che abbiamo 10 tabelline e noi troveremo, quando andremo a cercare come abbinare certi elementi, tabella 1, tabella 2, tabella 3, ma la tabella 1 qual è tra le 10 che ho creato. Se invece noi gli diamo il nome, ok, in modo che sia parlante, noi a intuito attraverso il nome riusciremo a capire a quale oggetto è abbinato questo nome qua. Quindi è sempre una buona cosa andare sempre, sempre, sempre a nominare gli oggetti. Quindi qua gli abbiamo dato un nome. Ad esempio adesso qui vedete c'è anche un bottone, un pulsante, inserisci filtro dei dati. Ok, se io premo qui posso selezionare una delle colonne della mia tabella. Quindi potrei prendere ad esempio la colonna reparto. Intanto cambiamo anche il colore che proprio non mi piace. Facciamo un bel blu. Facciamo così. Questo mi piace già di più. Quindi quando sono qui, se premo ad esempio su carne, io faccio un filtro nella mia tabella. Vedete ho filtrato la mia tabella. Se premo su gastronomia filtro tutto ciò che c'è dentro alla mia tabellina con il filtro dinamico. Ok, se premo il filtro in butto qua su elimino i filtri. Se premo questo posso filtrare più oggetti, vedete. Oppure posso togliere questo e con il control posso defiltrare. Oppure filtro il primo, poi tengo premuto il control dal successivo pressione che vado a fare e vado a porre più filtri. Quindi anche questa è una cosa che potete avere solo se avete i sedi dati definito come tabella. Cosa troviamo ancora nelle tabelle? Troviamo che possiamo decidere di avere la riga dell'intestazione. Ad esempio vedete io qua defleggo questo pulsantino qua e tolgo l'intestazione alla mia tabella. Perché magari non la vogliamo avere. Togliamo l'evidenza delle righe alternate, adesso con questa non si vede. Prendiamo ad esempio questa. Se tolgo le righe alternate vedete che non ho più il colore alternato. Posso anche mettere le colonne alternate se voglio. Vedete con un clic applico appunto la formatazione. Una cosa bella è la riga del totale. Se clicco sulla riga del totale ecco che lui mi crea in automatico una riga del totale che è posta qui. Se io vengo qua ok e vado vedete che compare una linguetta su quando clicco sulla cella del totale. Quindi se vengo qua e gli dico guarda che cosa è che mi hai fatto? Mi ha fatto una somma ma io non voglio fare la somma di questa colonna. Voglio fare una media quindi qui ci metto la media. Qui ad esempio ci metto la somma e qui ci metto magari la moltiplicazione oppure voglio fare una deviazione standard. Ecco che lui mi scrive in automatico praticamente la formula per fare ciò che abbiamo bisogno. Lui qui scrive dei numeretti vedete. Non è importante sapere cosa sta scrivendo qua. Praticamente 101 corrisponde alla media. Invece questo che è 109 corrisponde alla somma. Invece la deviazione standard corrisponde a 107. Ma al di là di questo non serve che impariamo queste cose qua. Perché se noi comunque dovessimo andare qua e facessimo la somma, ok, facciamo la somma, dovremmo fare la somma selezionando l'intervallo fatto così. Facciamo così per come l'abbiamo imparata prima. Quindi chiudo la tonda e poi mi trascino la formula di qua così. Ecco ho fatto la formula qui. Questa è come l'avevamo studiata nelle precedenti lezioni. E noi così, se qui andiamo a mettere ovviamente la somma, abbiamo fatto la somma e abbiamo lo stesso risultato. Però quando noi lo facciamo appunto con il pulsante righe totale, lui crea questa riga qui e qui mettiamo somma, in realtà lui non sta facendo una somma, sta facendo un sum totale. Poi col comando 109 gli dice guarda fammi la somma della colonna ditch, quindi dicembre, ok. Però il sum totale che cosa fa? Ecco la differenza. Se io vengo qua e gli dico guarda filtrami tutto quello che è ortofrutta. Vengo qua filtro ortofrutta, vedete che la somma che avevo fatto originariamente con la formula standard mi tiene sempre il totale di tutto ciò che è dentro la tabella, anche se qui c'è applicato un filtro. Invece il subtotale si adatta a ciò che la tabella sta esponendo in quel momento. La stessa cosa vale per la media, il mix, il max. Lui in base a quello che vede, ha esposto sulla tabella, va ad applicare appunto il filtro nel modo corretto. Questa è una scelta di lavoro, può essere che magari abbiate bisogno di questo tipo di formula. Allora in quel caso la potete creare in automatico. Ad esempio andate qui nel posto di subtotale, qua fate appunto somma, aprite la tonda e qua fate appunto la selezione. Quando voi selezionate tutto, lui scrive dicembre perché dice sommami la colonna dicembre, perché quando noi definiamo un oggetto di tipo tabella, ok, ci sono tutti dei riferimenti. Ad esempio qui c'è dicembre, qua c'è novembre. Al posto di avere l'intervallo, gli potrei dire anche dicembre meno novembre per dire. Ma in ogni caso facciamo la somma, ecco che noi qui abbiamo fatto la somma. Se adesso vado a fare il filtro su ortofrutta, vedete che lui comunque fa la somma completa come la vedevamo prima. Quindi questa è la riga del totale che è veramente una cosa molto carina. Dopodiché cosa abbiamo? Ad esempio qui prendiamo un altro esempio, ad esempio su questa tabellina. Abbiamo la riga del totale posta sulla destra. Allora qui Microsoft cosa ci dice? Premi il tasto Alt uguale premi invio. Se noi premiamo il tasto Alt Shift e il tasto 0 della tastiera che sopra c'è l'uguale se andate a vedere. Ok, lo Shift serve appunto per fare l'uguale, quindi Alt Shift 0. Ok, lui scrive in automatico la somma di questa riga qua. La riesce a trovare in automatico. E lui appunto va a fare la somma su questa cella, ma come vedete mi ha applicato la formula su tutte le righe. Non è come se io vado qua e gli dico guarda somma. Ok, mi fa la somma di questa riga qua. Chiudo la tonda. Ok, e premio invio. Lui mi fa la somma, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, solo su questa cella. E poi io dovrei mettermi qua e trascinare per avere la somma su tutte le righe. Nel momento in cui io lavoro in una tabella, nel momento in cui anche se vengo qua e scrivo somma, ma lo scrivo anche a manina, e seleziono il mio intervallo e poi chiudo la tonda e premo invio, lui trasporta la formula su tutte le righe. Se io poi vengo qua e scrivo un testo a caso, ok, vedete che compare praticamente un simbolino verde. Significa che lui sta rilevando un errore, o meglio, pensa che abbiate commesso un errore, perché qui trova una formula che appunto fa la somma della riga. Qui anche trova la formula che fa la somma della riga. Quindi per Excel, anche qui, secondo lui, andrebbe scritta la formula che fa la somma della riga. Quindi vi avvisa, guardate che c'è un problema. Allora se noi clicchiamo qua, da questo menu, e praticamente, mi sposto un pochino, che forse sono in mezzo, da questo menu, e praticamente qui che cosa si vede? Mi dice, guarda, ripristina la formula, lui sta rilevando che c'è un problema, e probabilmente dobbiamo ripristinare la formula come è stata scritta sopra. Quindi se premiamo qua, lui ripristina la formula in automatico, ha trovato l'errore e l'ha ripristinato da solo, senza che andassimo noi a correggere. Piuttosto che gli diciamo, guarda, ignora l'errore, ok, allora sparisce il simbolino, e va bene così perché è voluto, piuttosto che magari facciamo guida su questo errore. Allora quando vedete questo simbolino qua, e fate guida, qua vi compare la guida che magari vi può aiutare a capire un pochino come funziona, vedete. Questa è una cosa utile perché ci tornerà utile anche più avanti quando andremo a vedere altre cose di analisi sulle formule. Bene, direi che anche con questa lezione abbiamo visto tutto. Come sempre, se è stata di vostro gradimento, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete la risorsa nei social se vi fa piacere, così mi aiuterete appunto a far crescere il canale. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata. A presto, ciao!